Allora, guarda, la chitarra, è la voce! Alla mia sinistra, siede alla sinistra del quadri, Mr. Marco Pisaneschi! Thank you! It's a symbol della band, Mr. Foggi di Riaotti! Applauso! Voi stanno già arrivando! Ultimo, ma non per ultimo, applauso ai suoni! Luca Taderni! Ok, ci siamo! One, two! Yeah, yeah, yeah! C'è la sui! Yeah, yeah, yeah! C'è la sui! Yeah, 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 yeah! I think you bless your love, when I saw you yesterday. Don't you think she knows, and she telling me what to say? She says she loves you! You know that can't be well. Oh, Oh, Oh Oh! Oh! Yeah, 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 yeah! Mmm-hmm! No! Yeah, yeah, yeah! But I know that can't be well. Yeah, 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 yeah! Sì no 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 se vi andiamo qui grazie a tutti 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 Grazie a tutti.